PEGI 16 Il suo nome è Oryx, il re dei corrotti, e sta arrivando per te, guardiano. Puoi biasimarlo? Hai ucciso suo figlio con la sua stessa spada. Ora è in cerca di vendetta e sta creando un'armata oscura per darti la caccia. Ma ho udito le leggende. Tu sei pronto. Il suo nome è Oryx. Il suo nome è Oryx. Oryx sta arrivando, guardiano. Hai attirato la sua attenzione. Ora vai a prenderti la sua testa. Il suo nome è Oryx. Ottieni l'avventura completa di Destiny con il re dei corrotti. Edizione leggendaria. Il suo nome è Oryx. Il suo nome è Oryx.